Il numero 12 del catalogo è Rosso Verde B, maschio baio nato a maggio, figlio di Equinox B e di Felicity B, una figlia di Tossout e della basilare Usa di Jesolo al primo prodotto. La mamma è quindi sorella del vincitore del lotteria di Agnano, Gambling B. Grazie a tutti! Grazie a tutti!